I cataloghi si applicano così come sono. Non penso che Funakosha fosse così stupido da non capire. Poteva uscire di là. Se il cataloghi è fatto così, così si applica. Se cambio lo schema, cambio i movimenti, cambio il cataloghi. La parte bassa ha la parte alta, la parte alta chiude. Così, bene, così. La parte bassa ha la parte alta, la parte alta, la parte alta. La parte bassa ha la parte alta, la parte alta. La parte bassa ha la parte alta, la parte alta. La parte bassa ha la parte alta, la parte alta. La parte bassa ha la parte alta, la parte alta. La parte bassa ha la parte alta, la parte alta. La parte bassa ha la parte alta, la parte alta, la parte alta. la parte alta, la parte alta, la parte alta. La parte alta, la parte alta, la parte alta. La parte alta, la parte alta. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti